Senza il bomber Armando Iaboni infortunato, il San Nicolò si inceppa mancando una vittoria che sarebbe stata ampiamente meritata se non fosse stato per le tante occasioni mancate dai biancazzurri apparsi sciuponi come non mai. La fermana della vecchia Volpe Iaconi ringrazia e porta a casa un punto pesante che fa classifica e morale. Pronti via i biancazzurri fanno subito capire di voler fare sul serio con Stivaletta che è servito da chiacchiarelli. Si ritrova davanti a Savut che gli chiude lo specchio respingendo la conclusione. La risposta degli ospiti è affidata al quarto a Naziconi che sul suo rasoterra trova però la parata di Digifico. La gara vede ancora il San Nicolò pericoloso al quinto con Moretti che trova ancora una volta pronto Savut. La squadra di casa in costante proiezione offensiva è al settimo e Valim a trovare ancora l'estremo Marchigiano. Al decimo ancora San Nicolò questa volta con Stivaletta che dalla sinistra crossa centroarea per Moretti che in scivolata manca l'impatto col pallone. La gara è quasi a senso unico al quattordicesimo infatti i padroni di casa hanno una doppia occasione per passare ma nella prima Stivaletta trova la respinta di Savut e nella seconda Valim ottimamente servito da Moretti manca di poco il bersaglio. La fermana rischia ma resiste e si rivede al ventiquattresimo con Costantino che in sospetto fuorigioco è però sempre la squadra di Epifani a fare la gara e al venticinquesimo è ancora Stivaletta tra i migliori dalla distanza a trovare la risposta dell'estremo ospite. Poi ancora pressione abruzzese ma nessuna occasione da rete e squadre negli spogliatoi dopo tre minuti di recupero. Stessi 22 in campo ad inizio di ripresa con al terzo una conclusione alta di Petronio. Clamorosa l'occasione che capita al San Nicolò al sedicesimo quando Mozzoni crossa centroarea dove Moretti dopo il velo di Bartolini trova il salvataggio miracoloso di Savut. La squadra di Epifani ci crede al ventesimo e Bartolini di testa su cross di Valim a colpire però centralmente di testa. Sulla sponda opposta al ventunesimo si vede il neoentrato Bellucci che con un tiro improvviso fa correre un brivido addigifico con la sfera che sfiora il montante così come accade al ventitresimo con il tiro a fil di palo di Stivaletta imitato poi al ventiseiesimo da Moretti che dal limite non inquadra lo specchio della porta. La porta della fermana sembra stregata visto che al ventottesimo è Stivaletta che sbaglia ancora la mira da posizione sicuramente vantaggiosa. E' quasi un assedio quello dei Biancazzurri che al trentaduesimo chiedono un rigore sacrosanto per fallo di Savut su Moretti che viene invece ammonito per simulazione. La fermana ringrazia al trentottesimo sfiora il clamoroso vantaggio con Kossu che per poco non beffa dai 30 metri di Gifico. Il finale di gara vede al quarantunesimo un tiro a lato di Di Sante e poi più nulla con uno 0-0 che dopo sette minuti di recupero fa sorridere solo i canarini giallo-blu. Da rivedere la direzione arbitrale di Bendandi di Ravenna che ha lasciato parecchio a desiderare. Veniamo fuori da una situazione difficile, non è facile. Ripeto, i ragazzi a fine partita non hanno gioito. Avevano i musilunghi, questo per dimostrare che hanno capito che non hanno fatto una grande partita. Però, torno a ripetere, più che fare una bella figura e perdere con il sacrificio di tutti quanti siamo riusciti quantomeno a portare a casa un punto in un campo molto difficile. Penso che dobbiamo fare 4-5 gol. La squadra ha interpretato bene la partita. Siamo stati poco cattivi sotto porta. Delle volte è stato bravo il portiere perché ha fatto dei grandi interventi. Però penso che l'episodio chiave di tutta la partita è il rigore su Moretti che penso sia molto clamoroso perché il ragazzo se rimane in piedi va con la palla dentro la porta, porta vuota, quindi penso che non c'era nessun motivo di buttarsi.